Massimiliano Iervolino, segretario di Radicali Italiani, 150 anni dalla breccia di Porta Pia. Oggi è ricordata questo dramma Covid e oltre a questo è in corso in queste ore un appuntamento referendario, cioè gli italiani sono chiamati alle urne. Io credo che il referendum costituzionale sia un appuntamento molto importante perché andiamo per l'appunto a toccare la Costituzione e quindi invito tutti i cittadini ad andare a votare, però visto che è registrato speriamo che i cittadini siano andati a votare. Devo dire che la campagna referendaria non è stata una campagna referendaria bellissima perché solo nelle ultime settimane si è data la parola alle motivazioni del no. Veniamo da due anni di propaganda referendaria a rete unificate per il taglio dei parlamentari e quindi è stato sicuramente un compito quello del Comitato Promotore e dei Comitati per il no molto difficile. Abbiamo fatto di tutto anche come radicali italiani per far passare in tutti i modi l'informazione. Noi siamo contro questa riforma costituzionale, l'abbiamo detto dal primo minuto, perché non risolve assolutamente nessun problema della democrazia parlamentare italiana. Quindi ci siamo impegnati, ci impegneremo prossimamente su altre iniziative, però questo è stato un punto importante dell'attività di radicali italiani.